L'H1502 Plus di Olnick è uno stagiofono valvolare LCR, ovvero con induttanza capacitiva RIA. Ha trasformatori personalizzati, avvolti in nickel per maloi, 5 carichi resistivi individuali per ciascuna delle 4 selezioni di guadagno del trasformatore, equalizzazione fonica LCR, 2 ingressi MM, 2 ingressi MC, regolazione delle valvole, connettori valvole isolate con Olnick gel, damper tube e un alimentatore esterno. Il tutto concorre per l'ottenimento di uno stagiofono eccezionale e pressoché definitivo. Ha un suono a tempo stesso delicato e morbido, dettagliato e con dinamiche straordinarie. Le opzioni di guadagno sono da 40 dB per le testine MM e 72 dB per le testine MC. Contiene 10 valvole e anche l'alimentazione è stabilizzata tramite una valvola. Il trasformatore è accoppiato, contiene gli stessi trasformatori step-up per maloi dal modello superiore H3000, ha un funzionamento in classe A pura, come dicevamo, doppi ingressi MC e doppi ingressi MM, per cui quattro ingressi separati. Impedenza per le MC 117 ohm, mentre per le MM il classico 47.000. Olnick è un'azienda fondata nel 90, che ha sede in Corea del Sud, è stata creata da Mr. Kang Soo Park, che era il capo progettista della SilverWeld, una rinomata società nel campo delle amplificazioni valvolari. Mr. Park ha creato le migliori attrezzature valvolari al mondo. I suoi progetti sono davvero unici ed innovativi. Impiegano valvole e tecniche di progettazione estremamente inusuali, che sono semplicemente troppo difficili o costose da applicare per le aziende concorrenti. Grazie a tutti.